In Ultimate Marvel contro Capcom 3, Gabriosta vi farà vedere il finale di Dante, che è il protagonista di Devil May Cry. Ma se questo video vi piace, iscrivetevi al canale e commentate. Sento il tuo odore da un chilometro, sai? Cosa vuoi? Se lo desideri, posso ridarti tua madre, viva e vegeta. Potrei anche farti riconciliare con tuo fratello. Tutto quello che ti chiedo è... Non mi interessa molto riprendere i rapporti con mio fratello, per cui ecco la mia controfferta. Mi dai un lavoro che mi possa pagare la bolletta della luce per il resto dell'anno e ti lascio andare via da qui con ancora la testa attaccata al collo. In effetti c'è un demone di nome Cuore Nero che è mio figlio, mi ha dato non pochi problemi. Affare fatto, ma ti metto in conto il triplo per la tua idiozia.